Scacco alla Rondine, che è una fiction ambientata negli anni 30 per ricordare i fasti di Pescara quando la città rurale è diventata una città che raccoglieva il jet set. Venivano da tutto il mondo e venivano per questa gara. Circa 200.000 persone venivano ad animare la città. Nella fiction ci sono le macchine dell'epoca, quindi con gran piacere abbiamo avuto la possibilità di filmarle e il gran piacere abbiamo questa sera avere Vincent Scarza con noi, che è un regista produttore di livello planetario e il regista che ha realizzato Live Aid, quindi For Africa. È uno dei due miliardi di spettatori, quindi è un grande piacere avere con noi Vincent che ci onorerà con un grande regalo per Pescara per una prossima fiction, una fiction dedicata alla città. Tacciamo per il momento il nome, però sarà un grande piacere avere lui come direttore per questo lavoro. Grazie Vincent. Grazie appena. Grazie. Grazie. Grazie.